La comprensione dei fenomeni elettromagnetici è indispensabile per affrontare in modo consapevole lo studio delle innumerevoli applicazioni dell'elettronica ed elettrotecnica che su di essi sono basate ed è per questo motivo che ho creato il corso Elementi di Elettromagnetismo. Il percorso proposto è quello classico che parte dalle situazioni teoriche e sperimentali più semplici da descrivere, come oggetti fermi e puntiformi nel vuoto, per poi arrivare in modo graduale alle situazioni reali più complesse, dimensioni finite, movimento, materia, ecc. Si affronta inizialmente lo studio dell'elettrostatica nel vuoto e successivamente in presenza di dielettrici e conduttori. Si passa quindi alla corrente elettrica continua, ai fenomeni magnetici stazionari nel vuoto e nella materia, per giuggerne infine al legame indissolubile tra campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Nella proposizione degli argomenti si è cercato di limitare per quanto possibile l'utilizzo di metodi e strumenti matematici troppo avanzati, quali gli operatori differenziali ad esempio necessari per la formulazione delle equazioni di Maxwell, senza però rinunciare alla simbologia del calcolo differenziale e integrale. Questa scelta di compromesso, accompagnata da opportune suggestioni e intuizioni, si spera possa consentire lo studio degli argomenti proposti da parte di persone con diversi livelli di competenza matematica, senza rinunciare alla doverosa correttezza. Inoltre, propedeuticamente allo studio dell'elettromagnetismo, il corso fornisce le competenze fondamentali relativi ai vettori e ai campi vettoriali. Il corso è accompagnato da molti esercizi svolti per valutare e rafforzare le proprie competenze e consente di conseguire badge al raggiungimento dei vari obiettivi di apprendimento individuati. Buon lavoro!